Amici di YouTube, ben trovati da Marco Ligori, è morto improvvisamente il noto personaggio, la televisione italiana è sotto shock per la triste perdita, se ne va, un personaggio molto importante nell'azienda Rai e prima di sapere di più vi ricordo che a 400 mi piace, pubblicherò immediatamente un nuovo video, in questo video parliamo di un lutto per la Rai e più in generale per la televisione italiana si comunica che all'età di 86 anni a causa di un malore improvviso è mancato il giornalista Marcello Lazzerini per oltre 40 anni, cronista della Rai inviato per lo sport e la cultura del Tg della Toscana, seguiva la Fiorentina Calcio, vinse il premio Bancarella Sport nel 1993 con il libro La leggenda di Gino Bartali, nel 2001 ha pubblicato Correndo Correndo con Antonello Venditti, se ne va, un decano del giornalismo sportivo italiano Marcello Lazzerini che come detto è mancato a seguito di un malore improvviso e il primo canale di Marco Liguori con tutto il dispiacere del mondo, vale più sentite condoglianze alla famiglia del grande Marcello Lazzerini per la triste e inaspettata perdita amici di youtube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi anche sul primo canale di Marco Liguori e sul nuovo canale Marco Liguori, psicologia e crescita personale, ciao a tutti Marco Liguori, psicologia e crescita personale,